Oggi vi inserisco a fare i fasolari gratinati con crosta di panettone. Massabo! Partiamo pulendo i nostri fasolari o chiamati anche noci di mare. Inseriamo la punta di un coltello all'interno del fasolare, facciamo pressione verso l'interno, apriamo da una parte e anche dall'altra. Il nostro fasolare è aperto, recuperiamo l'acqua all'interno del fasolare, cerchiamo di pulire internamente. Il frutto a questo punto lo mettiamo su una bowl. Mi raccomando di prendere le noci, i fasolari comunque quelli più grossi, più grandi. Pronti i fasolari, li prendiamo e li tritiamo grossolanamente. In una bowl mettiamo un po' di prezzemolo, formaggio grattugiato, a piacere, olio d'oliva, un po' di acqua di fasolari, il panettone sbriciolato, grattugiata di pepe e un goccio di vino bianco buono. Mescoliamo per bene, mettiamo i gusci dei fasolari, mettiamo all'interno prima i nostri fasolari fritati e con l'aiuto delle mani il nostro composto. Pressate leggermente. Li inforniamo con forno già caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. Passato il tempo, ecco il risultato. Massa buoni! Grazie a tutti!